Onorevole Rinaldi, per il gruppo dei liberali. La ragione della collega Rapti, la ragione dei colleghi che mi hanno preceduto, Muschardini, gli altri. Questo sembra un dossier tecnico, ma in realtà può portare dei benefici seri alle imprese e ai cittadini europei. Dogana viene da divano, diwan, è una parola persiana, vuol dire divano. Vale a dire la Dogana era il luogo dove c'erano le panche, il luogo dove ci si poteva sedere e si doveva aspettare. La Dogana è sempre stata sinonimo di attesa ed è ancora oggi un fattore di costo per le nostre imprese. I tempi dello sdoganamento non sono certi, ci sono dei tempi, dei costi amministrativi e comunque bisogna impiegare risorse giornate e giornate, se non settimane, prima di tirare quello che per molti imprenditori o anche dei privati, quando hanno del cargo da sdoganare, tirare un sospiro di sollievo. La merce ha finalmente passato la Dogana. Quindi questo lavoro del codice doganale dell'Unione è molto, molto serio e importante. Credo che sia molto importante il lavoro che sta facendo il Parlamento, anche attraverso il Trilogo, di basare questo codice su alcuni cardini che correggono la proposta iniziale. Avere molta enfasi sul metodo e le tecnologie informatiche, questo non può che permettere semplicità, accessibilità e risparmio. Avere un sistema unico senza deroghe, se non quelle deroghe che possono essere accordate in misura transitoria e per ragioni specifiche. Ma è importante che ci sia un sistema per i 28 Paesi dell'Unione. Altrimenti cominceremo ad avere, come la Relatrice ha giustamente sottolineato, una maggiore distanza tra i Paesi che oggi sono più avanzati e quelli che sono arretrati. Il divario non potrebbe che aumentare. Concordiamo sull'inutilità di una dichiarazione distinta per la custodia temporanea. Concordiamo sulla notifica delle decisioni doganali antecedente allo svincolo delle merci, facendo naturalmente salvo la possibilità per le dogane di avere accesso alle stesse merci. In definitiva, le modifiche apportate dal Parlamento sono necessarie. Credo che sarebbe anche utile esplorare l'idea che è stata proposta dalla Commissione del Commercio Internazionale di una task force pilota comune in modo da avviare quello che in definitiva dovrebbe essere il traguardo dell'Unione, una autorità doganale comune per l'insieme dei Paesi. Abbiamo un mercato interno, gli Stati che hanno frontiere con i Paesi terzi hanno frontiere che sono uguali e con gli stessi vincoli per l'insieme dell'Unione europea. Sarebbe una delle realizzazioni che dimostra che più Europa in certi casi è sicuramente un vantaggio per l'insieme della società. Cominciamo col codice.